Sta per prendere il via il riordino urbanistico della fascia Lago di Linfano e Arco Lido. AMSA SRL ha presentato il progetto che prevede la realizzazione di un parcheggio da 300 posti auto a nord della statale 240, la riduzione del carico antropico nell'area a sud e la definizione degli spazi, tutti di proprietà dell'azienda, del circolo Vela Arco e del campeggio Arco Lido. Camping a cui saranno aggiunti diversi servizi al fine di raggiungere le quattro stelle. L'obiettivo del piano attuativo è lo sviluppo dell'area in ottica turistica, l'arretramento di tutti i volumi ora presenti in fascia Lago e la realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali e di una palazzina dei servizi. Il nuovo parcheggio avrà un costo di circa 200 mila euro e sarà realizzato, se i tempi burocratici lo consentiranno, prima dell'inizio dell'estate. Un parcheggio a basso impatto visivo è come lo ha declinato la progettista Alessia Fusaro. Non verranno indicati gli stali dei parcheggi, mentre verranno altresì fissate delle staccionate in legno. Per mitigare l'impatto con la strada verrà realizzata una zona di raccordo lungo il perimetro.